cosa è? questo è un barracuda scozzese, si chiamano barracuda sono i migliori più tessuto 100 per cento bottone puro e puoi andare via anche d'inverno questo fine è caldo anche d'inverno anche a basse temperature posizionale cottonwork questo è un terzo questo è la terza lunghezza perché altrimenti è per me su tutte le visione ci sono 200 euro a una